Musica Sicurezza sul lavoro, informativa della Giunta su controlli e prevenzione, approvata all'unanimità, una proposta di risoluzione. Masterchef Coppa del Consiglio a Eleonora Riso, prima vincitrice toscana. Dibattito in aula sulla sicurezza sul lavoro. Proseguire nelle azioni intraprese per garantire luoghi e condizioni di lavoro sicuri, attivarsi nei confronti del governo affinché, anche alla luce degli ultimi episodi avvenuti a Firenze e Lucca, si lavori di concerto con sindacati e organizzazioni datoriali per un approccio sempre più efficace alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Diffondere e sostenere, per una maggiore adesione dei lavoratori, il progetto Rete Regionale RLS. Lo prevede la risoluzione unanime del Consiglio regionale, approvata dopo la comunicazione della Giunta toscana, tenuta in aula dall'assessore Stefano Cioffo, sulla situazione della sicurezza sul lavoro nella regione. L'atto impegna anche la Giunta ad attivarsi nei confronti del governo affinché, partendo dalle proposte presenti in Parlamento e dalle iniziative già messe in atto, si individuino modalità più incisive sui controlli, anche mediante un incremento del personale ispettivo. Per l'Assemblea serve giungere in tempi brevi alla stipula di una strategia nazionale di prevenzione che preveda il mantenimento degli stessi standard contrattuali lungo tutta la catena d'appalto. La discussione è stata arricchita dai numeri che danno la dimensione dell'impegno sul campo. Nel 2023 sono stati effettuati controlli su 15.303 aziende, pari al 7,9% di quelli presenti sul territorio, e controllati dalle AUSL 4924 cantieri, 3.652 ispezionati con sopralluogo, 1.272 controllati a livello documentale, pari in totale al 13,5% dei cantieri notificati. Rispetto ai 3.652 cantieri che hanno subito controllo con sopralluogo, 506 sono stati cantieri pubblici e sono state riscontrate 4.371 violazioni. In 123 casi è stata sospesa l'attività, mentre in 15 casi il cantiere è stato sottoposto a sequestro. Noi pensiamo che l'impegno che tra l'altro la regione mette da tempo con atti, con leggi, ma anche con protocolli concreti, ricordo quello nel settore del tessile per ispezione in tutte le aziende tessili di Prato, quando ci fu l'incendio che costò anche lì alcune vite umane. Ricordo il protocollo per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nelle cave delle Apuane, per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, di Livorno e di Piombino. Insomma, c'è un impegno che è riconosciuto anche dalle statistiche, perché ogni anno la regione toscana si colloca tra le regioni più virtuose per quanto riguarda i controlli e per quanto riguarda la salvaguardia degli incidenti. Ma tutto quello che accade, anche un solo incidente, ma soprattutto anche un solo morto, è una cosa che non è tollerabile, quindi occorre fare di più. Sicuramente la regione toscana ha dei punti a suo favore per quanto riguarda il numero dei controlli, perché supera la media nazionale del 5% sul tema dei controlli, però ha anche tante leggi che siedono lì e che sotto tanti punti di vista non hanno avuto ancora l'attuazione che meritano. Pensate, sono 100 le morti circa all'anno a contatto con l'amianto e ad oggi non c'è un piano amianto in Toscana. Ci sono i rider, su cui tanto abbiamo dibattuto anche in Consiglio regionale, c'è stata una proposta di legge, ma ad oggi non sappiamo dal punto di vista di regolamento, dal punto di vista di attuazione della legge, a che punto sia la giunta regionale. C'è il tema delle aggressioni, ricordo la dottoressa Capovani, le aggressioni all'interno dei presidi sanitari, su cui la regione toscana ha investito e continua ad investire più di 2 milioni per la sicurezza nei luoghi, appunto negli ospedali, però non sappiamo anche l'andamento di quel percorso di formazione, di sicurezza, di tutela dei presidi ospedalieri, a che punto sia. Sicuramente tanto è stato fatto, tanto c'è ancora da fare. Quello che noi crediamo è che non ci debba essere divisioni di intenti, non ci debba essere strumentalizzazioni, perché quando si parla di sicurezza sul lavoro, l'articolo 1 della nostra Costituzione dice che l'Italia è fondata sul lavoro. Quindi quando c'è una morte sul lavoro o una mancata sicurezza sul lavoro, è un fallimento di tutti, indistintamente dall'appartenenza politica, indistintamente dal ruolo, né dalla propria provenienza. Pensiamo che debba essere fatto ancora molto a tutti i livelli. La regione toscana ha sicuramente a cuore la sicurezza dei lavoratori, e da quanto si evince la comunicazione dell'assessore Cioffo sicuramente non è un tema che passa in secondo piano all'attenzione di chi governa oggi la regione. Stesso discorso vale per il Governo nazionale. Il Governo nazionale ha messo in piedi un aumento, ha assunto 800 nuovi ispettori per controllare e vigilare sui cantieri, sugli appalti. Ha messo in programma un aumento del 40% dei controlli e aggiungo io, tanti di questi controlli dovranno essere fatti anche sulla tipologia di contratti, non soltanto sui dispositivi di sicurezza usati o su come i cantieri lavorano. Perché purtroppo anche il tema dei contratti è un tema che ricorre sempre più spesso. Spesso e volentieri al lavoratore non si fa il contratto più consono e più congruo alle proprie mansioni, ma quello più congruo e più consono alla sua retribuzione. E questo è quanto di più sbagliato possa accadere. Io mi auguro che non ci siano divisioni politiche e che la si finisca di strumentalizzare chi perde la vita, chi esce da casa per andare a lavorare e non far ritorno alla propria famiglia, che è quanto di più brutto ci possa essere. Forse servono meno leggi, ma serve maggiore verifica e puntualità e attuazioni delle stesse. Serve che le persone possano essere messe nelle condizioni di lavorare in maniera sicura e soprattutto che le nostre aziende sanitarie siano collaborative nei confronti degli imprenditori e nei confronti dei lavoratori. Serve magari maggiore comprensione, maggiore disponibilità, flessibilità, ma anche normative più semplici. Questo è l'invito che fa Italia Viva per fare in modo che il lavoro possa essere svolto in sicurezza e che nel contempo le imprese possano lavorare, ma nello stesso tempo le aziende possano essere dei soggetti che lavorano al fianco delle imprese insieme ai lavoratori, semplificando anche il quadro normativo. Molte volte ci si limita o ci si difende facendo una normativa, ma poi molte volte si creano maggiori oneri, magari burocratici, meno carte e maggiore tutela del lavoratore. L'assessore si è sforzato di porci davanti un piano il più possibile rassicurante per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, ma l'effetto è stato esattamente il contrario. Sapere che il personale che è a disposizione per questa importantissima e delicatissima funzione ai minimi termini e che il fatto delle banche dati, che tra di loro non riescono a comunicare, permetta anche pochi controlli documentali, è allarmante. I cantieri in Toscana sono moltissimi, disparati, all'interno dei quali lavorano molte professionalità e l'unica proposta che secondo noi seria è arrivata dalla Regione è quella di introdurre la possibilità di accedere a cantieri per tramite dello strisciare il proprio tesserino sanitario in modo da poter identificare tutte le presenze dentro un cantiere e sapere se queste sono preparate anche alla sicurezza. Ma non è sufficiente. Sono state fatte delle campagne informative, ma sono ancora troppo poche. Il settore dell'agricoltura continua a essere tra i più colpiti e sappiamo che quello dell'agricoltura è uno dei settori che occupa la maggior parte di manovalanze straniere e quindi hanno bisogno di una particolare attenzione proprio per la fragilità della situazione in cui spesso i lavoratori si vengono a trovare. Tutto quello che viene detto è tutto logico e giusto. Di fronte a delle tragedie come quella di Via Mariti oppure altre che ci sono state come la ragazza di Prato che fu schiacciata dal macchinario, per l'amor di Dio è bene che ci sia, come è stato detto, una formazione fin dai tempi della scuola per creare una cultura della sicurezza e una cultura poi da parte degli operatori, degli imprenditori sulla questione sicurezza dei luoghi di lavoro. In realtà però poi dobbiamo essere realisti e finiamo per doversi scontrare con una realtà che è ben diversa perché comunque l'economia è quella che è, l'angue e automaticamente tutti noi vanno a fare la spesa dove c'è le cose che costano meno sia in ambito di abbigliamento che in ambito di sostentamento di cibo. Masterchef in Consiglio regionale Prima Toscana a vincere il titolo di Masterchef Italia Eleonora Riso ha ricevuto una coppa a Palazzo del Pegaso a consegnarle riconoscimento nella Sala Gonfalone gremita di pubblico il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo con il segretario questore dell'ufficio di presidenza Francesco Gazzetti che ha proposto il riconoscimento all'ufficio di presidenza. All'Ariso Livornese sono stati consegnati anche il cappello da chef e il grembiule di vetrina toscana. Sono davvero felice ed orgoglioso di poter ospitare in Consiglio regionale Eleonora. Eleonora è una forza della natura, ho avuto modo di poterci parlare qualche minuto prima di venire qui e tutto quello che abbiamo visto in queste settimane, in questi mesi, la capacità di saperci emozionare perché prima di tutto è stato questo. Pian piano ognuno di noi, tantissime toscane e toscani ti hanno seguito, hanno ti fatto per te. Ognuno di noi sperava tu potessi diventare la vincitrice di Masterchef 2023, giusto? 24. Diciamo Masterchef 13. Esatto, di Masterchef 13 ed è davvero bello oggi poterti dare questo riconoscimento per tre motivi. Il primo è un modo per cui la comunità toscana ti dice grazie. Il secondo è un modo per farti un in bocca al lupo, per una carriera importante in cui le tue capacità, le tue competenze, il tuo modo di saper essere sempre sulla frontiera dell'innovazione, partendo dalla tradizione dei cibi toscani e sapendola declinare verso il futuro, possa essere piena di successi e piena di soddisfazioni. E la terza, di portare in giro per il mondo la qualità dei nostri prodotti. La Toscana ha prodotti unici e la tua maestria sa tenerli insieme. Quindi un grande in bocca al lupo e spero davvero che oggi sia un modo anche per costruire un ponte tra di noi e perché tu possa portare nel mondo in alto il nome della Toscana. Sono davvero molto contento e ringrazio l'ufficio di presidenza, a partire dal presidente Mazzeo, tutte le colleghe e colleghe, per aver accolto subito la proposta che avevo avanzato e a vedere dalle presenze e anche dall'entusiasmo con il quale è stata accolta Eleonora, c'è da dire che questo riconoscimento sicuramente è stato un riconoscimento azzeccato e sentito. Mi sembra che tutti riconoscano in Eleonora un bel esempio di una persona che non ha nascosto anche le paure e i timori e credo che sia anche un bel messaggio. Al di là di questo è stato un incontro molto piacevole e quindi sono molto molto contento che ci sia stata questa premiazione e ovviamente aspettiamo poi di andarla anche a trovare quando magari aprirà un suo ristorante perché siamo convinti che davvero questa ragazza sia anche una straordinaria ambasciatrice della Toscana e perché no anche dell'Italia e quindi molto molto contento di questa iniziativa. Eleonora ha conquistato la tredicesima edizione del Cooking Show che nella serata della finale ha registrato 1.145.000 spettatori medi e il 5,4% di share. La chef toscana ha vinto 100.000 euro in gettoni d'oro e l'accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, la scuola internazionale di cucina italiana. Infine come da tradizione ha avuto la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette, Laboratorio di Sapori, edito da Baldini Castoldi, uscito l'8 marzo. Prima di entrare nella masterclass la 27enne Eleonora, nata e cresciuta a Colle Salvetti in provincia di Livorno, si definiva una ragazza fuori dagli schemi. Una storia singolare la sua, dopo aver vissuto a Pisa per l'università, si è trasferita per due settimane in Francia a fare la vendemmia e quando è tornata a Firenze ha deciso di vivere in mezzo alla natura, in una casa nel bosco, una sorta di comune, dove ha imparato a tagliare la legna, coltivare l'orto e i segreti dell'apicoltura. A Firenze per mantenersi faceva la cameriera in un noto ristorante. Il più brutto quando ho perso in Valdichiana con la squadra in esterna in Valdichiana, tremendo, è stato orribile, ho pianto tantissimo, meno male non hanno inserito i miei pianti disperati in montaggio e il più bello quello in cui ho cucinato nella cucina dello chef Uliassi a Senigallia. È stato molto molto bello, molto emozionante, ero veramente felice. Come ho ripetuto tante volte in programma, assolutamente con me stessa, era un'esperienza ovviamente del tutto nuova e per di più un'esperienza ben poco semplice, perciò non è facile, non è stato facile per me riuscire a stare al passo con le emozioni e allo stesso tempo riuscire a far parte di una competizione così tosta. A livello di prodotti io spazio molto, anche quando sono in casa da sola magari mi faccio un carry, però i prodotti toscani sono pazzeschi, sono molto affezionata. Cosa cucino di prodotti toscani? In genere in cucina proprio da trasformare, ovviamente l'olio, però poi mi piace anche tanto utilizzare prodotti senza trasformarli ulteriormente, se si tratta di prodotti appunto e non materie prime diciamo semplici, mi piacciono in purezza, formaggi, salumi.